Una delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale di Padova, Giuseppe Dalbena, ha sancito l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo Policlinico di Padova Est, un'opera tanto attesa ed importante per la sanità di tutta la Regione, 870 i milioni di investimento per i quasi mille posti letto che sorgeranno nell'area di San Lazzaro, che diventerà punto di riferimento internazionale per le cure e per la ricerca scientifica. Nell'area sarà realizzata una torre dove saranno impiegati circa un migliaio di ricercatori, una zona di circa 40 ettari che vedrà realizzati anche i capolinea del tram e una fermata ferroviaria, 45 le sale operatorie, molte ibride, 200 gli ambulatori clinici e 200 quelli chirurgici per i dei hospital. Grande soddisfazione espressa anche dal Presidente della Regione, Luca Zaia, che parla del nuovo Policlinico come un ponte fra storia e il grande futuro per la sanità. Anche il primo cittadino, Sergio Giordani, esprime grande soddisfazione. Io sono felice che Giuseppe Dalbena, direzione generale dell'azienda, abbia firmato finalmente il progetto dell'ospedale. La scomincia la progettazione vera e propria, però sono felice perché stanno avanti a pieno ritmo. La salute è un diritto. Noi abbiamo una fortuna enorme per un'azienda ospedalea che ha qualche limite sotto l'aspetto edile, ma ha dei professionisti, lo dico solo per esperienza familiare e personale, abbiamo dei medici che sono delle star a livello europeo. Per cui grazie a quello che fa Giuseppe Dalbena, le università, la scuola di medicina. Grazie a tutti perché Paolo merita questa cosa. Grazie a tutti.